Il Fondi sta predisponendo le ultime pratiche per presentare domanda di partecipazione al campionato di seconda divisione che partirà il prossimo 4 settembre. La squadra rosso-blu a breve renderà noto il nuovo staff societario che condurrà il Fondi per il secondo anno nel campionato di seconda divisione Lega Pro. Si parla di ingressi di nuovi soci per consolidare ancora di più a livello finanziario la società, mentre sul fronte della guida tecnica Sauro Trilini non dovrebbe essere riconfermato e di nomi importanti di allenatori, anche con molta esperienza ne sono circolati diversi. Solo dopo la fine di giugno il Fondi comunicherà chi guiderà la squadra nella prossima stagione in un campionato che si spera sia diverso da quello dello scorso anno. La certezza è che il campionato di seconda divisione inizierà il 4 settembre preceduto da metà agosto dalla prima fase della Coppa Italia di Serie C, mentre per quanto riguarda i gironi bisognerà attendere chi riuscirà ad iscriversi nei professionisti e chi no dopo una stagione passata caratterizzata dalle numerose penalizzazioni inflitte alle società di Lega Pro sia di prima che di seconda divisione. A tal proposito la FICC ammetterà in organico nei campionati di prima e seconda divisione fino a 76 squadre, rispetto alle 85 dello scorso anno, prevedendo anche il blocco dei ripescaggi. 36 squadre divise in due gironi da 18 ciascuna per quanto riguarda la prima divisione, 40 squadre divise in due gironi da 20 per quanto riguarda la seconda divisione. L'estate che verrà, come ha anche preannunciato il presidente della Lega Pro di Serie C, Mario Macalli, si preannuncia rovente, non solo per il caso scommesse che sta sconvolgendo l'intero panorama dei campionati professionistici, visto che si rischia di partire anche con qualche squadra in meno rispetto alle 76 preventivate dalla FICC nei campionati di Lega Pro. Il Fondi non dovrebbe avere problemi riguardo all'iscrizione che effettuerà nelle prossime settimane. Intanto la squadra giovanile Fondana degli Allievi, allenata da Fabio Panza, è stata eliminata al torneo Superga e quarti di finale dal Grosseto, mentre i giovanissimi, allenati da Piero Parisella, sono stati battuti sabato scorso ad Avellino nei quarti di finale della Coppa Giovanissimi Professionisti. Grazie.